Ciao, in passato le condizioni economiche difficili permisero alle nuove salentine di dar forma ad un piatto semplice e facile da preparare, le coculette. Gli ingredienti per due persone sono 150 g di farina, 2 uova, sale quanto basta, 4-5 foglie di menta, cipolla quanto basta, 30 g di olio e 150 ml di salsa di pomodoro. Per questa ricetta l'alimento di cui voglio darvi alcune informazioni è l'uovo, importante per la presenza delle proteine ad alto valore biologico, per la presenza di vitamina D che è importante per la salute delle ossa, per la presenza di colina importante per mantenere in equilibrio l'attività cerebrale, per la presenza di vitamina B12 importante per i vegetariani perché tale vitamina è contenuta soprattutto nella carne, per la presenza di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi che prevengono le malattie cardiovascolari e perché va a contrastare la fragilità delle unghie e la perdita dei capelli per la presenza di proteine, vitamine insieme allo zolfo. E' vero che l'uovo, il tuorlo dell'uovo contiene molto colesterolo che comunque viene contrastato dalla presenza di acidi grassi insaturi e non va ad incidere molto sulla colesterolemia, se viene consumato con moderazione, cioè 2-4 massimo porzioni a settimana di uovo. Io consiglio due porzioni perché non dimentichiamo che l'uovo è presente in molte ricette. Iniziamo con la ricetta. Allora, prepariamo il soffritto da fare, quindi versando l'olio e la cipolla. Possiamo fare il soffritto oppure possiamo versare tutto insieme anche la salsa di pomodoro. E lasciamo cuocere, aggiungendo anche un po' di acqua, lasciamo cuocere per formare il brodo. In frattempo andiamo a preparare il composto. Allora, ricordatevi che l'uovo non deve essere mai lavato perché contiene una cuticola che lo protegge dalla contaminazione delle salmonelle. E se viene lavato potrebbe andare a rimuovere il lavaggio, potrebbe andare a rimuovere questa cuticola. E inoltre, per vedere se è bello fresco, extra fresco, il tuorlo deve essere ben bombato e l'albume deve essere compatto e trasparente. Mettiamo un pochettino di menta, cioè tutta la menta anzi. Mettiamo il sale, un pochettino. Infatti salare con molta moderazione. E andiamo a miscelare il tutto. Miscelato che facciamo? Versiamo su un piano la farina e versiamo le uova. Dobbiamo andare a iniziare ad impastare creando un composto non omogeneo, ma bisogna formare delle piccole palline, quelle che appunto vengono chiamate coculette. Sto facendo un po' di casotto, come il mio solito, però va bene. Voi sarete sicuramente più bravi. Una volta creato questo impasto non proprio omogeneo, quindi queste piccole palline, queste che appunto vengono chiamate coculette, andiamo a prenderle con un cucchiaio e le versiamo nell'impasto. E lasciamo cuocere per 10-15 minuti. Questo è il piatto delle coculette. È una specie di pasta per chi la pasta in passato non se la poteva comprare. Vi lascio con un proverbio cinese. Il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. Ciao, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!